Questo programma è offerto da Tecnocampus. Buonasera amici di Teleprime, benvenuti ad una nuova puntata di Focus Sanità, come di consueto ogni lunedì sera qui negli studi di Teleprime. Vi ricordo che siamo anche in diretta sulle nostre pagine social e su Facebook, ovviamente streaming su www.teleprima.it, un'altra puntata molto importante questa sera, infatti abbiamo un super ospite, con me il professor Arnolfo Petruziello dell'Unità Operativa di Patologia Clinica e soprattutto neodirettore del Dipartimento dei Servizi Sanitari dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anne e San Sebastiano di Caserta. Buonasera, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Ben trovato negli studi di Teleprime, qui per la prima volta. Questa è proprio la primissima volta e sono contento, conoscevo la vostra realtà da tempo che è diffusa in tutta la regione campania e quindi sono molto ben lieto di essere qui. Anche l'esordio televisivo prima volta già era stato ospite? No, 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 non è l'esordio televisivo, anzi sono un po' come si dice, navigatello sotto questo punto di vista, ma non sveliamo troppe cose. Ok. Ci sono state idee precedenti. Non ci prendiamo i meriti dell'esordio, quindi. Bene, iniziamo subito a parlare di lei. Napoletano viene da una realtà importante come quella del Pascale, fresco di nomina, direttore del Dipartimento dei Servizi Sanitari qui a Caserta, ma soprattutto nell'Azienda Ospedaliera Casertana, praticamente da pochissimo, da novembre. Oggi proprio cinque mesi dal suo arrivo. Oggi proprio cinque mesi, è un bel anniversario, sono contento, lieto di trascorrere insieme a voi e ai nostri ascoltatori. Sì, è una bella avventura, è iniziata cinque mesi o sono. Ringrazio il direttore Mario Ferrante che mi ha voluto fortemente, se posso usare questo termine, alla guida di questa unità operativa che come i nostri ascoltatori potranno immaginare rappresenta tutto il polo laboratoristico in sostanza di queste importanti aziende di rilevo nazionale. Vengo da un trascorso ultradecennale, quindi 25 anni di servizio all'interno della Fondazione Pascale, dove mi sono occupato di tante problematiche legate alla diagnostica e a quelli che sono i flussi organizzativi per quanto riguarda la gestione del laboratorio e soprattutto delle urgenze. Sono lieto e spero di poter dare la mia esperienza sia di patologo, di virologo e di ricercatore a questa importantissima azienda perché lo merita. Davvero è una bella sfida, è un bel progetto che ho abbracciato con un entusiasmo perché l'entusiasmo mi è stato trasmesso dal management di questa azienda. Le dico la verità, questo è molto importante quando un professionista viene chiamato a un ruolo così delicato e incontrare delle persone che amano il loro lavoro come il nostro direttore ma anche la dottoressa Siciliano, il dottore Gubitosa, insomma il nostro management è uno stimolo grande per chi vuole e deve impegnarsi in un'operazione difficile ma stimolantissima. Assolutamente il suo lavoro diagnostico, la sua grande passione come parlavamo anche a microfoni spenti e la ricerca, una grande sfida anche in quel di Caserta per un carattere poi vulcanico come il suo, come quello anche del direttore Ferrante, tanti progetti anche in cantiere. Sì, 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 allora io naturalmente, come si dice, amo i voli pindarici ma come il mio direttore e io stesso perché sono molto pragmatico, le dicevo in fase di pre-intervista, sono molto pragmatico quindi ovviamente le cose vanno fatte per tappe, vanno fatte per approcci e anche rapportandosi alla realtà che uno incontra. Ovviamente vengo da un istituto di ricerca ed è vero, ma questo non è per me né motivo di particolare snobbismo, di particolare idea diversa rispetto ad un'azienda con delle problematiche diverse come quella che è l'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano. Ovviamente il mio compito è assicurare ed è quello che ci siamo stabiliti insieme al direttore, assicurare una normalizzazione dell'attività di questo laboratorio che dà le potenzialità grandissime, dalle professionalità veramente importanti, ho trovato un team di collaboratori davvero non invidiabile, non diverso da altre realtà. Quindi stabilizzare come io dico la piattaforma, la nostra nave, procedere con una rotta sicura e poi su questa rotta sicura portare quelle che sono le grandi innovazioni che un'azienda di rilevo nazionale come quella di Caserta merita. E quindi l'approccio poi con la ricerca, ecco la sua domanda, e con quelle che sono le problematiche più impellenti per quanto riguarda la sanità pubblica, cioè la medicina personalizzata, l'approccio molecolare, l'approccio del trapianto autologo, insomma tutta una serie di problematiche nuove per Caserta e che dovranno nei programmi che ci siamo stabiliti, ovviamente dopo la stabilizzazione necessaria, diventare realtà. Ecco, ne parleremo assolutamente anche in seguito. Per chi da casa non lo dovesse sapere, vogliamo spiegare anche di cosa si occupa quindi la patologia clinica, anche il dipartimento poi di servizi sanitari ovviamente. Beh, il dipartimento di servizi sanitari di cui io sono veramente onorato di avere ricevuto proprio recentemente, fresco fresco, come si dice a Napoli, questo incarico, è un dipartimento molto variegato, molto eterogeneo. In global, come i nostri ascoltatori possono facilmente immaginare tutte quelle che sono le attività diagnostiche di un ospedale importante e quindi ovviamente il laboratorio di analisi, l'anatomia patologica per le diagnosi istologiche non soltanto, il centro trasfusionale per quanto riguarda l'apporto di sangue sia al pronto soccorso ma anche per le terapie che sono necessarie trasfusionali per i pazienti che ne hanno bisogno, la radiologia ovviamente per tutto quello che è inglobato e tutti i servizi satelliti che girano intorno a queste strutture. La patologia clinica è storicamente chiamata anche volgarmente, anzi dolgarmente, recentemente si preferisce chiamarla medicina di laboratorio, io preferisco il termine storico di patologia clinica perché ci fa capire meglio quello di cui parliamo. è tutto quello che riguarda la diagnostica sierologica o morale che è la prima avvisaglia per un paziente, quindi anche per il clinico, per poter formulare una diagnosi oculata e giusta o un approccio terapeutico appropriato. Quindi tutta la diagnostica che varia, è estremamente variegata dalla virologia all'autoimmunità, all'ergologia, all'ematologia, alla cosiddetta biochimica clinica, insomma gli esami di base che stanno a farci capire se stiamo bene o se c'è qualche avvisaglia che dobbiamo andare un attimino ad approfondire e poi indagini più specialistiche che ci consentono anche di capire laddove ci sia l'insorgenza di qualche dismetabolismo, qualche sindrome particolare e danno l'avvisaglia e quindi il giusto percorso, la giusta avvisaglia terapeutica al medico per poter formulare una diagnosi corretta e quindi un approccio terapeutico corretto. Quindi è un mondo molto 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 vasto e lei consideri che parliamo di un'azienda che ha più di 2 milioni di prestazioni annome quindi è molto grande, cioè nel senso parliamo a livello di strutture importanti di Napoli e di altre città capologo di provincia quindi con un bacino d'utenza molto molto grande. E anche un lavoro poi in sinergia tra le varie parti, quanto è importante questo punto? Questo vede, lei ha toccato un punto che io considero primario, diciamo, dopo il mio insediamento. In realtà, in alcune realtà, e un po' l'ho trovato a caserta arrivando, c'è un distacco, una discrasia tra quello che è il mondo del laboratorio e quello del mondo della clinica. Ora io ritengo che il lavoro del patologo e il lavoro del clinico debbano procedere su binari paralleli perché non è possibile immaginare una diagnosi oggi come oggi clinica senza il supporto del dato laboratoristico. Precedentemente, un po' per anche alcuni retaggi culturali del passato, si considerava il laboratorio come una semplice fabbrica di produzione di numeri. Non è così, sono chiaro. E non sarà così, almeno mi auguro. E quindi ho iniziato già con i colleghi a Caserta, il direttore lo sa, perché questo è un obiettivo importantissimo. Una rete di interrelazione tra noi, i miei collaboratori, e tutti i clinici e tutte le strutture complesse. Perché la risoluzione di un problema diagnostico deve partire soltanto da un incontro multispecialistico. Quindi dall'approccio clinico e da quello diagnostico. È vero, anche uno scambio poi di saperi, quindi che è sempre molto importante. Ma poi ci sono le loro esigenze. Esatto, ci sono le loro esigenze. Proprio recentemente abbiamo affrontato con alcuni colleghi l'implementazione di alcuni tipi di indagini che non venivano precedentemente effettuate. Alcune anche piuttosto banali, insomma basilari, però importanti nella costruzione del percorso diagnostico. Altre più specialistiche. E da questo ascolto, perché io amo nel mio lavoro mettermi molto in ascolto degli altri. Perché qui nella vita le certezze, chi vive di solo certezze è una persona che è obbligata a non crescere. Chi vive di dubbi, io credo che crei dentro di sé un meccanismo attraverso cui si può costruire l'innovazione e soprattutto l'evoluzione. Quindi ascoltando loro, ascoltando i loro problemi, ciò che non andava, ciò che ci sarebbe bisogno di fare. Insomma da questo ne deriva un arricchimento anche per noi. E quindi inizierò, e il direttore lo sa perché andrò ben presto a bussare, direi 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 dobbiamo fare questo, direi dobbiamo fare quest'altro, e lui gli dirà ma ora vediamo Arnolfo, valutiamo. Insomma verificheremo ovviamente nei tempi che sono corretti, ma questo è l'approccio giusto. Ecco quanto è importante l'innovazione e appunto la ricerca, l'abbiamo già affrontato in apertura a questo tema. Sono inscindibili. Vede, l'innovazione è sicuramente un elemento importante perché l'innovazione ci consente di aggiungere degli anelli che magari ci mancavano precedentemente nella diagnosi o nel percorso diagnostico. La ricerca è vero che è, come devo dire, il traguardo di istituti specializzati per svolgere la ricerca, ma io ritengo che la ricerca clinica, soprattutto in realtà ospedaliere, sia un elemento importante. Se la ricerca di base deve essere nei laboratori di base, ovviamente, la ricerca clinica aggiunge nello studio delle casistiche, quindi nella valutazione per esempio in una popolazione che può essere eterogenea o meno eterogenea, capire quanto un biomarker sia importante per una diagnosi precoce rappresenta sicuramente un elemento arricchente e molto importante per fare dei passi avanti, ma passi avanti che siano legati alla velocizzazione dell'approccio diagnostico, senza andare attentoni. Dobbiamo procedere in questa direzione, quindi sicuramente è un elemento importante, lo dice una persona che viene da un istituto di ricerca. So che qui adesso nella mia azienda nuova devo, diciamo, fortificare determinate cose prima di dedicarmi a questo, ma certamente questo mio, come devo dire, genio folle, che è quello che anima chi ama fare la ricerca, non verrà mai fermato, quindi il direttore è avvertito. Assolutamente, credo già lo sappia in realtà. Parlavamo prima anche di medicina personalizzata, che è il futuro. Questo è proprio quello che le dicevo precedentemente, quando noi riteniamo e passiamo da una valutazione dell'approccio diagnostico generalizzato, faccio un esempio banalissimo, abbiamo un sintomo, lo andiamo a cercare in maniera generica attraverso una serie di indagini. Tra queste indagini, tra dieci indagini, una ci darà un'indicazione. Lei capisce che in questo abbiamo due fattori controproducenti. Uno è la perdita di tempo, perché ovviamente dobbiamo passare degli step. Quindi facciamo la prima base, troviamo qualcosa che non va, passiamo alla seconda, poi passiamo al terzo anello e poi al quarto. Quindi abbiamo un tempo necessario per l'approccio diagnostico, ma abbiamo anche dei costi. Dei costi che ci impungono di dover seguire una scala di step diagnostici, che magari attraverso la identificazione di biomarkers predittivi di patologia, molecolari o sierici, attenzione, ci potrebbe consentire in presenza di un sospetto clinico da parte del clinico stesso, di andare miratamente su quel biomarker. È vero, il biomarker può essere costoso, ma il biomarker ci consente in 24 ore di fare una diagnosi. Ci consente di risparmiare quattro step diagnostici, ci consente di risparmiare risorse umane, ci consente di risparmiare sicuramente anche nelle spese stesse, diciamo, di gestione appunto di questo. E poi ci consente, una cosa molto importante, di capire che molto probabilmente, laddove esistono le basi che ci consentono questo, il trattamento del paziente può essere non generico, ma può essere specifico, specifico per quel biomarker. Ovviamente io sto facendo un discorso molto generico, e anche non entro nei dettagli perché non è questa la sede. Però voglio dire, oggi come oggi si sa che su alcune patologie, andare a cercare l'esistenza di un segmento, ma molto piccolino, che può essere anche una semplice base presente nel nostro DNA, che ci consente di capire la predisposizione o la resistenza verso un determinato farmaco, ci consente di utilizzare miratamente il farmaco giusto per il paziente giusto, senza fare diversi approcci terapeutici che sono costosi e lessivi soprattutto per il paziente. Questo ovviamente è chiaro, non lo possiamo generalizzare per tutti i tipi di patologie, ma ci sono delle forti indicazioni per alcune patologie, soprattutto oncologiche, consentitemi questa digressione, visto il mio background culturale, che ci indicano fortemente l'esistenza di questi biomarker. Quindi questa è la strada del futuro, ci dovremo arrivare. Assolutamente, quindi è importantissimo sia in fase di diagnosi, ovviamente, per recuperare tempo e per mirare all'efficacia, e quindi anche in caso futuro di prevenzione, abbiamo detto, nel caso di questi biomarker. Ne parlavamo prima ed era molto interessante, se abbiamo il tempo di dirlo. Assolutamente sì. Era questa problematica relativa all'epatocarcinoma, di cui abbiamo così amabilmente discorso prima di andare in onda. Mi sono interessato, quindi ne parlo con cognizioni di causa, perché era una tematica di cui ero investito nel mio precedente incarico. Ebbene, l'epatocarcinoma, che come tutti ben sanno, che è il tumore del fegato, insomma, per essere più semplici, che è una patologia altamente invasiva e lesiva, con indici di sopravvivenza tra i più bassi delle patologie oncologiche, oggi come oggi conosciute, ma soprattutto per la tardiva diagnosi, perché non dà una sintomatologia clinica manifesta in tempi veloci, ma purtroppo li dà solo quando la patologia è avanzata. Oggi noi sappiamo che attraverso la ricerca di specifiche, chiamiamole molecole, circolanti, presenti nel nostro siero, noi possiamo identificare una predisposizione, attenzione, non una obbligatorietà di sviluppo della patologia, ma una predisposizione. Questo era l'argomento, diciamo, del mio progetto di ricerca, di cui vado, devo dire, a età molto orgoglioso. E che anche, mi permettete di dirlo, è stato anche premiato per un giovane ricercatore che collaborava con me al Pascale con un riconoscimento e finanziamento dal Ministero della Ricerca. E quindi, voglio dire, è una linea che loro continueranno al Pascale e chissà, magari, in futuro potremo fare anche in collaborazione con Caserta, se ci saranno le condizioni. Assolutamente, lo speriamo. Quindi, una volta eventualmente individuata la predisposizione, cosa si potrebbe fare? Cosa si può fare? Allora, individuiamo una predisposizione. La predisposizione, noi la chiamiamo molto genericamente come una sorta di bandierina rossa che è presente nel nostro materiale genetico. Questa bandierina rossa non significa necessariamente che quello che noi abbiamo nel nostro interno debba parlare, cioè debba esprimersi, ma può significare che in determinate condizioni e stili di vita, particolarmente a rischio, questa bandierina rossa diventi ancora più rossa e possa esacerbarsi attraverso la manifestazione clinica. Quindi, individuarla precocemente ci permette di valutare, di variare degli stili di vita che possono essere deleteri e che magari in un soggetto normale, certamente, non sono auspicabili, però, insomma, provocherebbero meno danni, e quindi aiutare la prevenzione. E poi la bandierina rossa, come le dicevo, mi consente, se ho il farmaco specifico, una volta che la patologia si sia verificata, questa bandierina rossa mi permette di capire se uso il farmaco A o il farmaco B, perché il farmaco A agisce sulla bandierina rossa, ma magari il farmaco B non agisce su quella bandierina rossa. Non spreco tempo e soldi a usare e a far male al paziente utilizzando la B, uso l'A. È la base dell'immunoterapia, che oggi come oggi se ne parla tantissimo, sapete, è uno dei grandi sfide della medicina oncologica e sicuramente attraverso l'individuazione di piccole molecole marcatrici sulle nostre cellule, che sono espressioni del DNA, attenzione, bene, attraverso l'identificazione di questi in alcuni casi possiamo fare diagnosi precoce. Ecco, ed è una cosa importantissima, soprattutto per quanto riguarda il tempo, che in diagnosi importanti poi è veramente fondamentale. Le facevo l'esempio dell'epatocarcinoma, purtroppo è quello il grande, mentre in alcune forme tumorali siamo riusciti, grazie all'approccio strumentale, ad ottenere una diagnosi abbastanza precoce che dà in alcuni tipi di tumore, parliamo del carcinoma mammare, è una sopravvivenza molto, ma molto, cioè siamo oltre il 70%, diciamoci la verità, ma in patologie come quella che le dicevo prima, o altre endocrine, o addirittura neuroendocrine, purtroppo siamo molto distanti da una diagnosi precoce, perché sono nascoste, perché la sintomatologia non è così automatica, perché il nostro deficit compare è solo quando la patologia è già invasiva, e quindi ovviamente l'approccio a quel punto è... Allora, se noi riusciamo a fare diagnosi precoce, lei mi segue in questo, ovviamente facciamo diagnosi precoce, abbiamo una percentuale più alta di colpire il bersaglio, c'è la bandierina rossa, sappiamo come colpirla, e diamo sicuramente una sopravvivenza al paziente molto, ma molto più alta. Questa è una grande sfida, eh? Eh sì, anche molto bello, ovviamente, per la medicina del futuro, è vero, è vero. Parliamo anche un po' di immunoterapia, ne ha accennato prima, di malattie autoimmuni, è veramente un emisfero vastissimo poi. Io devo dire la verità, tra le cose belle, perché uno deve dire le cose belle, di dove va... Io sono arrivato all'ospedale di Caserta, nell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano, dove io ho trovato, ma devo dire la verità, insomma, delle professionalità tra i miei collaboratori molto alte. E voglio citare in particolar modo il settore autoimmune, che è della diagnosi autoimmune, che è, attraverso appunto la collega di cui se ne occupa specificamente, la dottoressa Di Palvelli, che è, devo dire la verità, un settore ampiamente avanzato e soprattutto con una predisposizione, per il discorso che facevamo prima, già molto avanti, nel senso che tutto quello che abbiamo predisposto e che la collega già aveva immaginato ancora prima del mio arrivo, quindi le do atto, non ho assolutamente nulla da dire sotto questo punto di vista, già pone, ci pone molto avanti nella possibilità di fare diagnosi di malattie come per esempio la sindrome di Alzheimer, che voi sapete benissimo, è una sindrome neurodegenerativa, ma in cui è possibile anche in quel caso evidenziare la presenza di biomarker precoci ancora prima. E abbiamo avuto proprio anche in collaborazione con la collega che si occupa di proteomica, quindi di diagnosi delle proteine, abbiamo avuto proprio recentemente un caso molto bello in collaborazione con la neurologia, purtroppo di una diagnosi precoce di Alzheimer in un soggetto molto giovane, ovviamente la malattia non è presente come potete ben immaginare, ma il marker, cioè la banda proteica presente è evocativa purtroppo di un possibile, dico sempre possibile perché voi sapete che il livello tra espressività del dato genetico e poi realmente patologia passa sempre attraverso una serie di fattori di rischio, però la presenza di questo elemento in età così giovane il soggetto ha meno di 30 anni è evocativo della possibilità purtroppo di sviluppo di diagnosi nefasta, negativa in tarda età. Purtroppo allo stato attuale non abbiamo strumenti terapeutici che si consentono dinanzi a questo successo diagnostico di dire abbiamo risolto il problema, però siamo preparati, quindi voglio dire torniamo al discorso di prima. Un ottimo punto di partenza, diciamo. Brava, esattamente per questa persona e così per altri tipi di patologie il mio impegno è questo in questo momento. Ho detto prima la nave deve essere a galla ed è vero, ma accanto a questo bisogna portare innovazione, bisogna portare diagnosi precoce, bisogna dare un servizio al cittadino, il cittadino deve sapere che venendo all'azienda di Sant'Anne e San Sebastiano può trovare e potrà trovare nei prossimi mesi un punto di riferimento per quanto riguarda la diagnosi precoce di sindrome come questa ed altre che sono oggi come oggi costrette, obbligano spesso i pazienti a lunghi viaggi. È vero, è vero. Altri due elementi che le ha studiato molto epatite e diabete, a me che sono temi sempre abbastanza... Il diabete è il mio primo amore perché voi dovete sapere che la mia vita è stata sempre molto vulcanica, nel senso che io ho spaziato veramente a 360 gradi in quella che è la diagnostica, la patologia. Io parto come patologo molecolare perché in realtà alla Federico II dove mi sono formato da un punto di vista universitario e di specializzazione, io ho fatto una tesi di dottorato di ricerca un po' di anni fa e purtroppo lasciamo perdere, non diciamo le altre. È tutta esperienza, è tutta esperienza. È tutta esperienza. Proprio sulla identificazione del diabete mellito di secondo tipo, cioè quello lì cosiddetto della vecchiaia, insomma, per capirci, quello lì non giovanile, ecco, insomma, che generalmente si sa è legato a stili di vita, bla 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 bla. Bene, ho fatto una tesi di dottorato molto interessante che tra l'altro è stata anche pubblicata, lo dico perché è uscita su una rivista molto importante in quell'epoca, che era innovativa perché poneva le basi dell'esistenza di un difetto genetico per la prima volta in un cluster familiare, cioè era una famiglia di soggetti portatori di una mutazione nel recettore presente su alcune delle nostre cellule per l'insulina. Quindi questo recettore funzionava male, l'insulina era prodotta normalmente, si legava male, il meccanismo induceva che ovviamente l'ormone non riuscisse per questo suo difettivo legame a trasmettere il messaggio alla cellula con tutto quello che ne deriva, cioè l'utilizzo degli zuccheri, bla 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 bla. Quello è stato un bel punto di partenza. Poi mi sono spostato successivamente nella mia vita, un po' per le condizioni per quello che è accaduto, sono arrivato a Pasquale, quindi ho lasciato la Federico II, mi sono occupato appunto di epatiti, che è stato il mio secondo grande amore, che mi ha accompagnato fino a poco prima di venire qui a Caserta. L'epatocarcinoma è un esempio correlato all'HCV e all'epatite C, che come sapete è uno dei più grandi problemi con una regione come la nostra dove l'incidenza è altissima rispetto a altre regioni italiane e mi ha portato ad essere, diciamo, presenti in alcune conferenze internazionali di un certo prestigio dove ho potuto portare la nostra esperienza campana, prima sull'area metropolitana di Napoli, poi sull'intera regione campana in collegamento con altre strutture ospedaliere, abbiamo pubblicato alcuni articoli abbastanza interessanti che indicano quanto la regione campania purtroppo sola, seconda solo alla Sicilia, rappresenti una enclave stranissima di accumulo dell'infezione da virus dell'epatite C. Lei pensi che abbiamo un'incidenza superiore all'8% negli anni scorsi, ora in ribasso per le nuove terapie antivirali, mentre invece la media nazionale è intorno all'1%, quindi è circa 6-7 volte superiori alla media nazionale, questo avrà un significato, ce l'ha, lo abbiamo dimostrato e soprattutto abbiamo suggerito per quanto riguarda appunto gli stili di vita e soprattutto le pratiche odontoiatriche che rappresentavano nella nostra regione un grosso problema non apro adesso tutta una lunga digressione che ci prenderebbe troppo tempo però insomma l'esistenza di cose non sterili di pratiche non sterili ha consentito negli anni soprattutto fine 90 inizio 2000 la diffusione immensa di questa infezione nella nostra popolazione quindi questo è un altro argomento di grande mio interesse e di grande amore Ho notato che rigore sempre una parola in quello che dice analizza stile di vita che è un punto veramente poi ricorrente in tutto praticamente io ritengo che la prevenzione passi soprattutto attraverso l'informazione e l'informazione alla cittadinanza alle persone nella maniera anche più semplice possibile di quelli che sono i grossi difetti non soltanto ciò che i mass media ci hanno diffuso il fumo sappiamo tutti che fa male sappiamo per fortuna anche il legislatore è intervenuto in maniera molto radicale sotto questo punto di vista ma ci sono molti altri stili di vita che fino a poco tempo fa sono stati sconosciuti o sottovalutati quelli alimentari quelli legati all'inquinamento dico cose forse banali cioè iperconosciute però non è mai troppo poco per sottolineare banale non è mai banale alla fine anche se per fortuna ciò si diffonde lo stile di vita condiziona la nostra salute e condiziona soprattutto l'evoluzione della nostra vita e quindi se noi provassimo a volerci un po' più bene sotto questo punto di vista essere un po' più attenti anche informati e questo è il compito vostro e il nostro ovviamente risolveremo molti problemi è vero è vero infatti noi assolutamente vogliamo fare la nostra parte ogni lunedì parlando ai nostri telespettatori con Focus Sanità parlando proprio di Mass Media le volevo fare anche un'altra domanda su un argomento ormai di pubblico dominio soprattutto in questo periodo dell'anno il vaccino e le vaccinazioni un argomento possiamo dire delicato perché c'è stata questa normativa delle vaccinazioni obbligatorie soprattutto per i bambini e si è sviluppato poi un caos tremendo cosa ne pensa al riguardo? Guardi io devo dirle la verità mi affido alla frase di un personaggio molto importante della nostra cultura e della nostra letteratura che ha definito Facebook e alcuni social come la bocca degli idioti non ha detto proprio così vabbè ve lo lo dico a parole mie lui ha detto ciò che prima si diceva al bar e che rimaneva nei tavolini tra i bicchiariella che giocavano a carti o si bevevano quel bicchiere di vino la sera che era molto anche carino simpatico nelle realtà soprattutto di paese attraverso i social è diventato purtroppo lo stupidario comune e purtroppo su questo l'ignoranza delle e la diffusione ad arte legata da parte di qualcuno che ha interesse evidentemente a diffondere notizie fake ha portato una disinformazione enorme i vaccini rappresentano senza ombra di dubbio non lo dico io non c'è bisogno sono l'ultimo per poterlo dire ma molti miei colleghi ben più qualificati di me rappresentano l'unico modo che noi abbiamo per combattere le malattie infettive sono assolutamente sicuri il rischio che è correlato ad una vaccinazione è talmente più basso del rischio a cui si incorre non ricorrendo la vaccinazione che non c'è neanche bisogno ogni collegamento che è stato fantasiosamente fatto con alcune sindrome è del tutto infondato le persone che lo hanno sostenuto sono state irradiate dalle società scientifiche sono finite nel dimenticatoio pubblico e sopravvivono solo nella stupidità purtroppo di qualcuno che vuole che l'ignoranza si diffonda come ma forse stiamo tornando mi permetta di dirlo in senso più generale stiamo tornando ad un'era pre-rinascimentale il rinascimento è stato lo sviluppo delle arti della cultura dell'ingegno umano basti pensare a Leonardo e a tanti altri il medioevo che è un periodo storico estremamente importante attenzione era l'epoca dello scurantismo conosciuto perché i dogmi bloccavano la mente umana stiamo tornando indietro e il diffondersi di questa ignoranza e di questa banalità in alcuni momenti fa davvero paura è vero anche perché bisognerebbe sempre progredire anche nella mentalità e nell'apertura mentale piuttosto che regredire appunto sempre il progresso dovrebbe essere sempre fondamentale c'è stato un cambiamento anche nei virus nel virus influenzare nell'arco del tempo e della reazione poi del corpo allo stesso guardi i virus sono io li definisco qualcuno sorride quando dico questo li definisco tra le forme di vita più intelligenti attenzione perché sono degli esseri viventi a tutti gli effetti anche se molto semplici complessi ma molto semplici rispetto alla cellula umana una cellula un animale sono degli individui in grado di rispondere alle pulsioni alle pressioni evolutive in una maniera rapidissima lei forse saprà come i nostri ascoltatori sicuramente sanno che buona parte dei virus che colpiscono il genere umano derivano dal mondo animale il virus dell'HIV è il primo che è un virus nato molti anni fa molto prima di quanto noi ne abbiamo saputo negli anni 80 nato nel mondo animale in quello delle scimmie in particolar modo da un suo precursore poi è evoluto sì per mutazioni genetiche in forma umana passato casualmente dalla scimmia all'uomo e diffusosi ancora prima che il mondo occidentale se ne accorgesse nel 1981 nel mondo nel continente africano il virus dell'epatite per esempio è un virus che muta oggi abbiamo dei farmaci estremamente importanti lo abbiamo detto prima abbiamo una terapia che radica il virus direttamente ma non crediate che questo signore se ne stia zitto o sia fermo a farsi uccidere così facilmente sta iniziando a mutare sta iniziando a cambiare ha una capacità di mutazione altissima e sta sviluppando addirittura delle resistenze ai farmaci che tra qualche anno dovremo affrontare in maniera seriamente in maniera seria il virus influenzale è uno degli esempi lei ha citato il virus diciamo per antonomasia che varia e che muta velocemente per fortuna riusciamo a prevederlo e a avere un vaccino non è così per altri virus alcuni virus che sono giunti alla nostra osservazione e io faccio l'esempio del virus Zika di cui si è parlato se ricordate qualche anno fa in maniera devastante sono stati appunto anche in quel caso mutazioni che hanno spinto questi virus a passare dal mondo animale al mondo umano ad adattarsi facilmente e lo stesso è accaduto per altre forme virali insomma ricordiamo focolai epidemici che ci sono stati nell'Africa continentale molto recentemente malattie che hanno spaventato l'Occidente il problema è sempre lo stesso che l'attenzione della sanità pubblica nei confronti dell'aspetto virologico e della prevenzione purtroppo avviene sempre tardi quando i virus si diffondono nel mondo occidentale magari bisognerebbe agire già nei serbatoi che sono quelli animali presenti nei continenti africano o asiatico per bloccarli ma insomma avremo un discorso molto lungo per la nostra sede vero molto lungo ma molto interessante potremmo fare puntate esclusivamente facciamole le faremo facciamole ci previschiamo chiediamo al direttore se è d'accordo ovviamente assolutamente sempre al direttore prima ha parlato anche di giovani ricercatori le brillavano gli occhi quando ne parlava ed è una bellissima cosa quanto sono importanti soprattutto poi per il futuro e soprattutto si dice sempre che la professione del medico detto involgare sia un po' desueta tra i giovani invece è bello vedere che ci sia ancora questo fuoco ardente questa passione guardi io sono si mi brillavano gli occhi è vero ha ragione io sono felice sono contento di avere formato dei ragazzi che hanno lavorato con me che più che meno insomma ci sono ragazzi che ora sono uomini e donne adulti insomma hanno figli hanno lavorato con me per anche più di 10 anni ragazzi che hanno lavorato meno anni nella mia attività di laboratorio in cui io mi sono sempre barcaminato a 360 gradi tra la diagnostica perché ci sono i problemi pratici di dare la risposta al paziente nel più breve tempo possibile ma contemporaneamente portare avanti dei progetti di ricerca come diceva prima ebbene in questa attività io ho cercato di dare spazio a loro e il grande entusiasmo che ho trovato in questi ragazzi che sono poi la forza propulsiva del futuro e delle nuove energie ha trovato appunto concretizzazione in questo bel riconoscimento che dicevo prima ma soprattutto nella formazione di un gruppo che io so di avere alimentato con il mio entusiasmo perché sono il primo a essere entusiasta e di averlo trasmesso a loro ora sono rimasti orfani poverini stanno lì ma insomma il papà se n'è andato piangono poverini però devono camminare anche da sole insomma perché è giusto sono diventati più grandi quindi devono devono continuare da soli ok parliamo anche del futuro quindi cosa si aspetta nei prossimi mesi all'azienda ospedaliera questa è una bella domanda sembra semplice ma non lo è questa è una bella domanda mi aspetto di avere sempre meno tempo per la mia vita personale e questo l'ho messo in conto lo so che arrivavo in un posto e soprattutto con un direttore molto esigente io l'ho capito nel nostro primo incontro non ci conoscevamo non avevo avuto il piacere di incontrarlo precedentemente ma ho capito che è una persona il cui entusiasmo è contagioso ma soprattutto la cui voglia di ottenere dai suoi collaboratori molto alta esigente molto esigente quindi questo nuovo incarico a parte quello ovviamente del mio laboratorio è fortissimo io ho come obiettivo a parte tutto quello di cui abbiamo parlato finora un'idea importante l'armonizzazione tra le diverse esigenze di un'azienda questo è il mio principale scopo la mediazione significa ascoltare le necessità dei diversi colleghi e delle diverse realtà diagnostiche coniugarle attraverso appunto l'innovazione attraverso lo sviluppo di nuove tecnologie e soprattutto attraverso una risposta sempre più rapida sempre più precisa e attendibile in futuro mi auguro di riuscire in un progetto che è un mio pensiero non lo sa neanche il direttore direttore chiuda non faccia finta di non sentire scherzo ovviamente vorrei trasferire un'automazione nel laboratorio di patologia clinica che non ce l'ha ancora me ne dispiace perché è una delle poche grandi aziende che non ha ancora un'automazione del laboratorio di un certo tipo l'automazione non significa la sostituzione delle risorse umane significa semplicemente la velocizzazione dei tempi le macchine ci possono aiutare tanto oggi la tecnologia è diventata avanzatissima è tutto certo è certo quindi i robot ci aiutano ma naturalmente non possiamo prescindere mai dall'occhio dell'uomo e soprattutto dal controllo dell'uomo sulle intelligenze artificiali un implemento non una sostituzione assolutamente assolutamente però affiancano molto sono importanti perché ciò che prima era necessità manuale adesso diventa libera diventa praticità diventa rapido raggiungimento dell'obiettivo e permette all'operatore al professionista di maggiormente dedicare la sua attenzione dal punto di vista voglio dire solamente e puramente diagnostico assolutamente noi siamo in chiusura visto che sono volati questi 40 minuti sono super volati ma faremo assolutamente delle altre puntate tematiche mi raccomando ci tengo l'aspetto e oramai ho imparato anche la strada perfetto mi sono fatto scortare per arrivare ma non perché non so pratico di caserta ammetto la mia ignoranza quindi però è stato poi facilissimo e bello stare con voi grazie anche per noi lo stesso ringraziamento al professor Arnolfo Petruz e lo grazie mille l'aria aspettiamo qui quando vuole quando vuole ormai Teleprima è casa sua invitatemi verrò sicuramente grazie grazie a voi noi ringraziamo ovviamente anche voi telespettatori che ci avete seguito ricordiamo le repliche nella giornata di domani seguiteci anche sui social e appuntamento a lunedì prossimo sempre con Focus Sanità buona serata grazie a tutti grazie a tutti a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.